Ciao ragazzi, allora faccio questa video recensione rapida su questo rullante che mi è stata chiesta da Francesco Allora, il rullante costa teoricamente poco, nel senso che è un rullante da quello che vedo economico della marca Millennium che infatti fa un sacco di prodotti economici, ma mi sembra un buon rullante Allora, andiamo a vedere un attimo di cosa si tratta Fondamentalmente questo è un rullante che dovrebbe essere di acciaio martellato e per questo motivo dovrebbe mantenere, proprio perché è martellato, un timbro abbastanza scuro Le misure sono 14x6,5, quindi un rullante profondo Francesco giustamente mi diceva, senza spendere troppo, che ne pensi? Vale la pena acquistarlo? Io credo di sì, a parte che non costerà proprio 90€ se compri solo questo, ma te ne costerà almeno 110€ perché mi sembra che con Toman ci sono 20€, eccolo qua c'è scritto, 20€ disposizione in più quindi se compri solo questo e non arrivi a 300€ dovrai, diciamo che ti costa da Toman 110€ però per 110€ se fai attenzione quando lo ricevi a sistemare subito qualche cosa mi sembra un rullante buono, diciamo perché? Punto primo, è un rullante, diciamo che per la tipologia di suono che deve ottenere che ci devi ottenere, un po' scuro, un po' rock non hai bisogno di grandissime risonanze e quindi puoi permetterti di comprare un rullante meno costoso, diciamo perché a livello di controllo del suono non hai bisogno di ottenere chissà quale profondità di suono o armoniche, ok? e quindi già per questo è un rullante economico ma può soddisfare le tue più o meno esigenze posto che tu faccia più o meno rock, hard rock, così dal punto di vista tecnico questo rullante ha delle piccole accortezze che sono un po' economiche nel senso che la macchinetta della cordiera è una macchinetta che io la conosco proprio a vista è fatta di un materiale metallico molto leggero quindi devi stare attento perché se prende delle botte o tiri male la levetta si piega e non funziona più però facendoci attenzione e muovendola con molta cautela può funzionare tranquillamente a tempo illimitato altra cosa un po' da ricordare è questa che come si vede qui praticamente c'è metallo su metallo sul cerchio tripla flangia quindi fondamentalmente ci sono degli attriti e delle vibrazioni di base sul rullante che andrebbero evitate puoi andare dal ferramenta o in qualche grande magazzino dove vendono attrezzatura per appunto ferramenta e cercare delle rondelle circolari di plastica e metterle quindi svitare la vite e metterle qui tra il cerchio e la vite in modo da attutire un po' di più le vibrazioni perché loro di fabbrica non te lo danno altra cosa importante come suppongo che sia perché l'ho vista in tanti altri tamburi diciamo di questa fascia economica dovrai necessariamente magari dopo un po' che l'hai comprato cambiare le pelli sia la risonante che la battente perché di solito questi rullanti vengono venduti con delle pelli praticamente di plastica non di mylar e quindi fondamentalmente suonano male più perché hanno le pelli di basso qualità piuttosto che il metallo, il materiale sbagliato quindi fondamentalmente il metallo pressato mi sembra buono tutto sommato ad un primo sguardo e già so perché ne ho usati altri che se tu gli cambi le pelli e ci metti che ne so una controller sound sopra della Remo o l'omologa della Evans e una snare side come risonante sicuramente ottieni un ottimo risultato poi casomai facciamo un attimo un altro video sulla questione della cordiera per capire come poter migliorare la vibrazione della cordiera per ottenere un risultato maggiore anche con la vibrazione della cordiera ok però diciamo che senza toccare la cordiera già se cambi le pelli e metti queste piccole accortezze sulle viti dei tiranti già hai fatto tanto è una spesa minima e potrebbe diventare un rullante come di quelli che costano 250 euro diciamo quindi diciamo che potresti essere salito di marca però assolutamente mi sembra un buon prodotto quindi per 90 euro ne vale la pena ok spero che questa video recensione ti sia utile sia utile a tutte le persone che seguono Drum Start e se avete altre domande scrivetele nei commenti per altre recensioni e ci vediamo alla prossima ciao